Romolo Remo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Ancomarzio! Qui le gare, le gare di biga, Ancomarzio Tarquino il Superbo, 250.000 persone arrivavano da tutto il mondo conosciuto per vedere le grandi bighe! Tarquinio, dove sei Tarquinio? Qui c'era commerci, c'era incontri, gente che si trovava, facevano incontri e quello che vorremmo fare noi è incontrare le popolazioni del mondo! Qui venite a chiedere a noi, ai parlamentari, potreste chiedere quello che volete! Sarà un grande raduno, cari signori, un grande raduno! Vi aspettiamo!